sarò onesto con voi queste dichiarazioni mi erano completamente sfuggite tant'è che per oggi su questo canale youtube avevo già preparato un altro contenuto io avevo letto le sue dichiarazioni su un articolo di sky sport e queste esatte parole non erano riportate quindi poi stanotte praticamente o stamattina per meglio dire perché erano le due passate mi sono preparato il contenuto da un'ora mi sono preparato il contenuto che sarebbe dovuto uscire oggi su questo canale youtube e a questo non ho pensato poi stamattina leggendo queste parole ho detto è il caso che io le commenti quindi il contenuto che doveva uscire adesso slitta o a più tardi o al più a domani e però ne dobbiamo parlare per quanto poi io una volta che mi sono reso conto di queste dichiarazioni e le ho lette in realtà sono andato ad informarmi perché ho detto a volte i giornali giornalisti non riportano esattamente le parole dette da un allenatore non vorrei che sia una fake news tra virgolette no che abbiano completamente stravolto il significato delle sue parole invece poi ragazzi faccio fatica a pensarlo faccio fatica a crederlo le trovo delle parole spiazzanti mi metto nei panni di un tifoso della juventus e dico ma l'ha dette veramente ste parole sono qui per commentare ovviamente sul primo canale youtube non c'è spazio oggi c'è un'altra programmazione in atto è per questo che ho creato questo secondo canale youtube quindi per questo vi invito a seguirmi a iscrivervi ad attivare la campanella su entrambi canali youtube di calcio per non perdervi nulla non voi salutati dopo due minuti bentornati e ben ritrovati vi chiedo di lasciare mi piace per supportare continuare a supportare questo genere di contenuti vi chiedo di iscrivervi e di attivare la campanella appunto anche sul canale youtube extra calcio se vi fa piacere seguire contenuti extra calcistici li parlo di formula 1 ma anche in realtà portiamo altri contenuti insieme al buon fabio vi lascio tutti i canali in descrizione o durante il video compariranno qui l'avrete già letto dal titolo il virgolettato no la frase che ha suscitato molto scalpore che ha fatto molto discutere e che probabilmente ha ancora di più allontanato allegri dai tifosi della juventus forse anche da quelli che ancora pochi perché in realtà pochi però ci sono che ancora credevano nelle potenzialità di allegri che guardano un po diciamo il bicchiere mezzo pieno non lo so fino a che punto poi guardando come si sta mettendo il campionato penalizzazione compresa però parliamone allora le parole dell'allenatore bianconero dopo la sconfitta contro il milan il virgolettato più importante che lascia a bocca aperta è se avessi voluto vincere non sarei tornato alla juventus ci arriviamo con calma però perché voglio commentare tutto quello che ha detto con la sconfitta rimediata contro il milan la juve è costretta a rinunciare a ogni possibilità ovviamente di qualificarsi in champions league dopo lo 0 a 1 dell'allianz stadium l'allenatore dei bianconeri allegri ha commentato a dasone le prestazioni dei suoi dopo la partita ho ringraziato i ragazzi hanno fatto una stagione straordinaria e bisogna cercare di chiuderla con onore a udine quando parla questa stagione straordinaria ovviamente intende per tutto quello che è successo per tutti gli infortuni che hanno avuto non prende in considerazione la penalizzazione perché altrimenti la juventus sarebbe dentro l'obiettivo champions league ma sappiamo a bocce fermi ai nastri di partenza come partiva la juventus no partiva per provare a vincere lo scudetto ripeto la campagna acquisti anche il ritorno di pocba e di maria e tante altre dinamiche tante altre situazioni gli acquisti della passata stagione vlaovic e via dicendo no non auguro a nessuno una stagione così quindi per quello dice hanno fatto un lavoro straordinario perché comunque con tutti i problemi che ci hanno avuto alla fine non ci fosse stata la penalizzazione sarebbero arrivati in champions dice non auguro a nessuno una stagione così metti i punti e togli i punti stasera non c'è da parlare di niente abbiamo fatto la partita per quello che potevamo fare è stata una stagione anomala se poi guardi la classifica e dici che la juve non ha fatto una stagione adeguata dobbiamo accettarlo ma in realtà non è così perché la juve ha fatto 69 punti io arrivato a questo punto non so esattamente perché poi uno può solo immaginare no i giornali perlomeno a inizio stagione ma tutti no parlavamo di una juventus che ovviamente riprende massimiliano allegri per cercare di puntare subito allo scudetto no anche il prendere il di maria di turno no il cercare di creare un instant team per ricreare subito quell'ambiente vincente non dico per vincere lo scudetto ma comunque per essere lì tra quelle squadre che magari arrivi alla 32esima 34esima poi non lo vinci però sei stato lì fino all'ultimo no questi secondo me erano gli obiettivi della juventus a inizio stagione e questo credo che massimiliano allegri poi abbia concordato tra virgolette con la dirigenza provare o comunque lottare per lo scudetto no io questo mi ricordo poi non so se lui in accordi con la società sapeva che non sarebbe riuscito a vincere lo scudetto non so immaginava una stagione così del napoli immaginava di essere ancora indietro al milan o all'inter questo io non ve lo so dire però queste parole sicuramente pesano e non poco proseguendo allegri ha parlato del momento umorale della nell'ambiente juventus ha una cosa mi sono dimenticato di non sono d'accordo quando dice che loro ieri praticamente hanno fatto quello che che potevano fare secondo me dovevano fare assolutamente di più poi annetto degli indisponibili è ok però se la juventus giochi in casa e secondo me dovevi fare del tutto pur di vincerla no ecco sì il milano ha fatto l'uno a zero ma perlomeno un gol perlomeno la reazione perlomeno non è stata questa l'impressione no una juventus che poi per quanto la partita sia stata equilibrata ma in sostanza insomma non è stata una juventus così spumeggiante la juventus che ha messo sotto e così tanto in difficoltà il milano una partita comunque equilibratissima allora energie le abbiamo finite la stagione è finita a siviglia per energie mentali è pesante anche questa in realtà perché poi se ripensiamo alla penalizzazione se ripensiamo alla partita con l'empoli ipoteticamente vincere quella partita e non era una cosa poi così impossibile e ipoteticamente dopo aver vinto quella no avere ancora le forze avere ancora l'umore di provare a vincere quella col milan per continuare a sperare nel sogno champions league nonostante la penalizzazione insomma li ha ovviamente penalizzati lo dice la parola stessa ma li ha penalizzati per un motivo ben preciso insomma le possibilità c'erano tutte anche il dire che praticamente la stagione è finita a siviglia quando ancora tu c'hai la possibilità vincendolo ripeto poco prima della partita con l'empoli c'era stata la penalizzazione calcoli alla mano era fattibilissima questa questa situazione per quanto poi capisco siano stati destabilizzati durante tutta la stagione di continuo no però se la juventus devi continuare a lottare fino all'ultimo fino alla fine tra l'altro fino alla fine è lo slogan diciamo no della juventus come squadra non si molla niente fino all'ultimo fino all'ultimo secondo quindi va un po contro quello che è il credo etico diciamo no di una squadra che comunque in italia qualcosina ha vinto ecco stasera abbiamo fatto anche un buon primo tempo poi abbiamo sbagliato con la marcatura sul cross e girù ha fatto un gol straordinario ma in realtà girù unico uomo se non mi ricordo male dentro l'area di rigore come fai con tre difensori della juventus schierati per quanto il cross sia stato perfetto per quanto girù ha un'esperienza da vendere come fai a fai e fa quel gol mi verrebbe da dire no però sono cose che capitano non è che succede solo alla juventus anni fa la juventus della bbc non succedeva a barzagli bonucci chiellini cioè qua la palla avrebbero giro non sarebbe manco riuscito a saltare probabilmente no quindi è tutto dire insomma abbiamo fatto anche un buon primo tempo poi abbiamo sbagliato con la cadura vabbè con un altro gruppo di ragazzi non avremmo fatto 69 punti ma 50 dice quindi comunque elogiano il fatto che con questo gruppo forse questo era il massimo che potevano fare bisogna essere orgogliosi dice al momento se valutiamo quello che è successo in campo saremmo ancora dentro per un posto in champions e questo nessuno glielo toglie perché è la realtà dei fatti se dobbiamo giudicare l'operato di allegri sul campo probabilmente c'è ancora una giornata però probabilmente sarebbero riusciti a qualificarsi almeno per la prossima champions league ripeto penalizzazione a parte che comunque sarebbe stato un po come il milan salvare il salvabile no non riuscire a vincere lo scudetto per manifesta inferiorità però perlomeno prenderti quello che è l'obiettivo minimo no che si chiede ad una squadra come la juventus sotto sto punto di vista ragazzi comunque i risultati e i punti che allegri aveva guadagnato sul campo parlano per lui questo nessuno glielo può assolutamente togliere ciò non toglie che gli obiettivi probabilmente erano altri a inizio stagione su quello che serve per dargli garanzie sul futuro l'allenatore bianconero ha risposto con un velo di sarcasmo in questo momento ho solo bisogno di riposare prima stacchiamo meglio è voglio andare a udine e onorare il campionato poi con lucidità ripartiremo l'errore che possiamo fare è non tenere il buono che abbiamo fatto serve per costruire il futuro della juventus speriamo che prima del 20 agosto ci dicano se ci saranno altri punti di penalizzazione e non ci facciano passare un'altra annata a essere impallinati dappertutto su questo sono d'accordo con lui io preferirei ma anche da tifoso è perché già è stato falsato questo del campionato togli e metti togli e metti toglietegli tutto quello che gli dovete toglie adesso penalizzateli adesso e poi la prossima stagione ripartiamo senza sti problemi del togli metti e incertezze perché così perché eccola perché destabilizzi non solo loro ma soprattutto anche le squadre che inseguono le squadre che provano a farsi ovviamente i calcoli dei classifichi e via e via dicendo con le partite che con le partite che restano e adesso arriviamo alle parole quelle vere e proprie no poi poco prima dell'inizio di questa partita non mi ricordo chi ha parlato ma ha ulteriormente rinnovato fiducia ad allegri no quindi se tu rinnovi fiducia ad allegri prima di una partita del genere sai che comunque la puoi perdere significa che probabilmente si vuole continuare ad andare avanti lo conferma sky sport io vi dico la verità comincio ad avere qualche dubbio anche queste dichiarazioni che sono state fatte insomma me lasciano un po perplesso poi magari ripeto a inizio stagione la società con allegri aveva concordato e sapevano che non avrebbero vinto lo scudetto ma ne resterei onestamente sorpreso e allora poi magari con dispiacere della maggior parte dei tifosi della juventus allegri resterà anche per la prossima stagione credo di aver fatto un buon lavoro dice quest'anno hanno giocato cinque giovani è ottimo per il club che può patrimonializzare su questo sono d'accordissimo e ha detto la pure semplice verità per esigenza per necessità ha comunque valorizzato dei giovanissimi che adesso valgono sicuramente un gruzzoletto importante quindi alzato il valore della juventus partendo dai giovani che poi è quello che si chiede un po a tutte le società non solo ai più grandi club è importante per autofinanziarsi se così vogliamo dire fanno uscire dei soldi che valorizzando non avessero valorizzato non avrebbero creato dei giovani che possono valere tanto non tanto per venderli in sé poi se c'è necessità li vendi ma soprattutto per creare forze fresche forze nuove all'interno di una squadra che ovviamente sta rivoluzionando il proprio processo di crescita purtroppo non giocheremo la champions quando sono tornato sapevo sentite qua ragazzi sapevo che sarebbe stato difficile vincere se avessi voluto vincere sarei andato da altre parti io capisco che ci ha avuto in passato la corte se non sbaglio del real madrid 100% proprio se non real madrid e poi ha deciso di ha meno soldi e questo c'è da dirlo e poi ha deciso di tornare alla juventus per amore della squadra se non sbaglio non voglio dire fesserie correggetemi se ho sbagliato ricordo però che in passato sicuramente real madrid c'è stato c'è stato anche il pari san germain però non sono parole da un allenatore della juventus secondo me perché quello che si chiede ad una squadra come la juventus con il valore rosa no attuale quello che partiva anche al ai nastri di partenza era una squadra che poteva e secondo me aveva il diritto mi pare che lo aveva detto proprio lui poi tra l'altro no la juventus ha il dovere e adesso mi sono tornate in mente queste parole a inizio stagione nastri di partenza disse la juventus ha il dovere di lottare per lo scudetto quindi se tu fai delle dichiarazioni del genere a inizio anno e poi mi dici vabbè sapevo che sarebbe stato difficile vincere comunque va in contrasto con quello che è stato detto a inizio a inizio stagione no avrebbe dovuto rilasciare delle dichiarazioni differenti magari a inizio anno o magari queste sono parole no però quando sono tornato significa appena tornato non durante la stagione con la penalizzazione o sapevo che sarebbe no no cioè sono inequivocabili le parole se avessi voluto vincere sarei andato da altre parti o ha sbagliato ad esprimere un concetto magari a caldo può succedere perché poi non sempre uno riesce ad esprimersi seppur la lingua è quella parliamo italiano però può capitare no che uno parole dette a caldo magari non riesce ad esprimersi bene non so se verranno corrette queste parole o se sono state dette appositamente per farse cacciato punto da dalla juventus per farsi esonerare io questo non ve lo so dire onestamente mi risulta che lui voglia continuare con la juventus potrebbero essere delle parole di frustrazione non lo so interpretatele voi fatto sta che a inizio stagione anche lo stesso allegri diceva una cosa e adesso invece dice dice tutt'altra se avessi voluto vincere addirittura sarei andato da altre parti non lo so mi sembrano delle parole che mancano di rispetto alla tifoseria bianconera poi magari solo io che le sto interpretando in in malo modo magari ripeto avrebbe voluto dire qualcosa di differente no magari la sua idea era quella che poteva immaginare magari una stagione no per la juventus nonostante la rosa nonostante i calciatori importanti e magari non lo so voleva intendere che in questa singola stagione era difficile vincere subito forse quello voleva intendere però per poi dar vita ad un processo di crescita che può portarli a vincere nel breve medio periodo a me ripeto sembrano parole inequivocabili sto cercando di comprendere se magari si è espresso male ma da quello che dice così non sembra la juve deve rimanere sul campo su quello fatto nel concreto la juve ha giocato una semifinale di europa league e una semifinale di coppa italia sul campo siamo stati penalizzati il calcio di da e ti toglie quest'anno ci ha tolto molto ne usciremo fortificati delle squadre sono entrate in champions perché ci hanno tolto 10 punti però questa ovviamente è la verità ma ovviamente non è anche responsabilità sua se gli hanno tolto dei punti non è il colpevole non è stato allegri i colpevoli sono stati ovviamente no allontanati dalla dalla juventus sappiamo tutti quello che è successo la penalizzazione e tutto il resto mi sembrano parole di un allenatore che ovviamente anche frustrato dal fatto che si ritrova con 10 punti in meno per colpe non sue ecco forse è da leggere così questa queste parole queste dichiarazioni forti che non so fino a che punto i tifosi della juventus però lasceranno passare lisce come l'olio ripeto mi sembrano delle delle dichiarazioni che vanno fortemente in contrasto con quelli che erano gli obiettivi di inizio stagione poi se dici quando sono tornato sapevo che sarebbe stato difficile vincere capisci bene che avevano detto che a juve c'ha il dovere di forse aveva detto di provare a vincere lo scudetto comunque il dovere di lottare per lo scudetto poi però sto dovere non è stato non è stato assolutamente rispettato pettante dinamica anche gli infortuni non voglio trovare scuse per allegri però chiuso la finale su una previsione per il futuro quando potrà tornare quando potrà la juve tornare ad avere l'ambizione di vincere questa è la risposta di allegri non confondiamo il fatto di essere pronti a vincere con l'ambizione la nostra ecco vedete però qua come dice dice la nostra ambizione è vincere sempre poi ci sono altre squadre abbiamo fatto un ciclo importante di nove anni ora sono tre anni che non vinciamo quindi ecco leggendo quest'ultima dichiarazione che mi era sfuggita lui dice a inizio anno la juve deve sempre partire per vincere la juve non se può permette quest'anno non possiamo vincere nulla soprattutto ripeto per la squadra che è stata costruita dietro poi però dice c'è la realtà dei fatti rileggendola così non dico che vado a giustificare pienamente quelle che sono le parole di allegri però insomma sono parole forti parole parole pesanti quelle che quelle che dice e io semplicemente vorrei sapere voi che cosa ne pensate qui sotto nei commenti ovviamente di di quello che ha detto secondo voi sono parole gravi sono parole pesanti manca di rispetto alla juventus avrebbe dovuto dire a inizio anno parole differenti forse perché lasciava intendere no che che la juventus doveva lottare per lo scudetto forse avrebbe dovuto mettere un po più le mani avanti a inizio stagione e dire quello che ha detto adesso a fine stagione la nostra ambizione è vincere sempre però poi ci sono altre squadre che sicuramente sono molto più avanti di noi e noi dobbiamo dobbiamo provare a rincorrere le ha dette queste parole e non me le ricordo io e mi sfuggono è stato creato un caso inutile sulle parole che ha detto la vostra qui sotto nei commenti vi ringrazio per la visione e ci vediamo come sempre alla prossima con un nuovo video ciao ragazzi